Raffica di domande con... Federico Baschirotto Soprannome? Baschi Altezza e peso? 1,87-88, peso 88 Quanto sollevi di panca piana? 140 kg Piatto che mangi più spesso? Verdura, un piatto unico, verdura, riso e una proteina, pesce o pollo Fai la tua esultanza caratteristica Tre parole per descrivere Baschirotto in campo? Aggressivo, mastino, concentrato E' più grosso Baschirotto o Adam Atraore? Forse perché più basso di me è Adam Atraore Però più o meno si è un leader Riusciresti a tenere Haaland in un uno contro uno? Mettimelo di fronte e poi vediamo Mi faccio un tatuaggio se? Impossibile Hai mai visto una Ferrari con gli adesivi? Un saluto agli amici di Gazzetta Ciao a tutti, un abbraccio